Parla tifoso Partenopei. Sono qui oggi per condividere con voi notizie che potrebbero avere un impatto sul futuro del nostro club. Prima di iniziare vorrei chiedervi di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità sul Napoli. Chi è Victor? Descriviti con una parola. Questa è un sentimento incredibile per essere nel stadio e scrivere il nome per il primo minuto e il 90 minuto per aiutare la squadra e tutto questo. Per me è molto elettrifico e straordinario. Ci sono davvero amici. Mi ricordo quando eravamo a la pizze, eravamo a Rondo e Koulibaly eravamo in mezzo e io e Rachmani eravamo vicino a tutti. Quindi eravamo a la pizze in mezzo e quando è arrivato, Rachmani lo poteva tra le pizze e Koulibaly era molto angrii, ma in una forma di scoperta. Quindi eravamo a Amin e io ho aggato, eravamo a la pizze, eravamo a la pizze. E poi ho ho avuto la foto e ho ho avuto, ma ho avuto il suo permesso e ho avuto il mio canale. E ho avuto la foto e ho ho avuto la mia storia di Instagram. E ho avuto la mia storia di Instagram. Ciao, aiuto! Ok!